Se a me avessero detto un giorno ti innamorerai di un calamaro gigante mi sarei fatta una risata eppure è così, veramente non dico tanto per dire mi è successo una volta sicuramente se non due benvenuti su Voltare Pagina Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Manuela se questa è la prima volta che passate da qui mi raccomando iscrivetevi subito io sono molto contenta di ritrovarvi oggi con un nuovo video stagionale nel video di oggi infatti vi darò qualche consiglio di lettura specifico per l'estate si tratta di libri che ovviamente vi consiglio a prescindere dalla stagione però insomma che per un motivo o per l'altro mi sembrano particolarmente adatti per una lettura estiva vi parlerò brevemente rapidamente di 5 libri e poi alla fine vi darò un consiglio supplementare un bonus per così dire per chi avrà avuto la pazienza di restare con me fino alla fine del video allora per molti di noi l'estate è il momento dell'anno in cui magari si ha un po' più di disponibilità di tempo per leggere, non solo per chi ha la fortuna o la possibilità di avere delle vacanze ma anche perché comunque le giornate sono più lunghe, insomma il ritmo di vita è diverso e molti di noi tendono a dedicare più tempo alla lettura durante l'estate per altri è vero il contrario, è per carità perché voi sapete non ci sono verità assolute e valide per tutti mai nella vita e per quanto riguarda i libri e la lettura insomma ancora meno quindi ci sono anche persone che magari leggono più volentieri d'inverno quando si mettono lì sul divano con la copertina, col tè caldo, col caffè caldo e preferiscono quel tipo di contesto per leggere fatto sta che come sempre ognuno ha le sue abitudini, le sue preferenze e le tematiche dei video sono poi sempre e soprattutto dei pretesti comunque per parlare di libri detto questo parto subito con il primissimo consiglio di lettura per l'estate che è questo, Il Calamaro Gigante di Fabio Genovesi allora questo è un libro di cui veramente ho voglia di parlarvi e ho voglia di parlarvi subito perché per me è stato proprio un colpo di fulmine pazzesco è un libro che ho appena scoperto, che ho appena letto l'ho finito proprio pochi giorni fa ed è stato, ripeto, un colpo di fulmine mi sono assolutamente innamorata di questo libro mi sono innamorata della storia che racconta, del modo in cui questa storia è raccontata dello stile dell'autore, insomma si tratta di un libro che ha mille qualità davvero, quindi ve lo consiglio assolutamente è un libro abbastanza recente, è del 2021 che racconta la storia del Calamaro Gigante allora se a me avessero detto un giorno ti innamorerai di un libro che racconta la storia del Calamaro Gigante mi sarei fatta una risata, eppure è così questo per dire che poi in letteratura, come in tutte le cose, insomma possiamo sempre essere sorpresi e così scoprire cose che ci piacciono anche laddove non l'avremmo immaginato insomma, fatto sta che questo libro racconta proprio la storia del Calamaro Gigante questo animale abbastanza impressionante di cui oggi si è provata l'esistenza ma che per molti secoli è stato una specie di essere misterioso perché tutta una serie di marinai o di studiosi o di ricercatori avanzavano l'ipotesi della sua esistenza e portavano magari anche delle prove eccetera eccetera però poi il pensiero dominante tendeva invece a rifiutare l'esistenza di questo essere dire non è possibile, non è possibile che esista un animale con queste caratteristiche un Calamaro di queste dimensioni così grande, così potente, così forte non è possibile e quindi non esiste la storia del Calamaro Gigante essenzialmente in due parole è un po' questa oggi come oggi, ripeto, la sua esistenza è stata provata e non ci sono più dubbi sul fatto che il Calamaro Gigante esista davvero allora cosa rende assolutamente irresistibile questo libro? secondo me ciò che è assolutamente irresistibile in questo libro è il modo in cui l'autore intreccia la storia di questo animale con tutta una serie di altri aneddoti, episodi proprio anche legati alla sua esperienza personale, alla sua vita ricordi, riflessioni che fanno la ricchezza di questo libro questo libro procede per digressioni questa è una caratteristica veramente molto specifica di questo libro l'altra cosa assolutamente interessantissima in questo libro è lo stile c'è una specie di ingenuità eppure con un risvolto anche talvolta cinico una ingenuità che comunque non è mai superficiale anzi si tratta proprio di uno sguardo per così dire innocente che permette di vedere oltre, che permette di guardare oltre la superficie che permette di capire proprio quelle cose che diciamo una certa ottusità umana precisamente non permette di vedere, di capire quindi c'è questa ingenuità che però è anche molto profonda e poi c'è uno stile che sembra un po' uno stile delle favole c'è proprio un'arte, una capacità del raccontare tant'è che in effetti l'importanza della narrazione, l'importanza della parola l'importanza della trasmissione delle storie è uno dei temi insomma importanti del libro i temi del libro appunto sono molteplici c'è sicuramente una tematica legata all'ecologia è un messaggio ecologista molto importante e molto potente questo senza ombra di dubbio però questa tematica ecologista non è assolutamente l'unica tematica anzi ci sono tanti altri temi importanti quello che ho appena citato cioè l'importanza delle storie della trasmissione della narrazione ma anche un'analisi che viene fatta da un punto di vista dell'ingenuità della purezza ma che in realtà è spietata su determinate caratteristiche dell'uomo e cioè appunto su una certa ottusità dell'uomo questo libro è una critica direttissima all'incapacità dell'uomo di guardare oltre le superfici, di guardare oltre le apparenze è una critica all'incapacità di immaginare all'incapacità di credere nelle cose che fino a quel momento non sono state possibili quindi l'autore dice il calamaro gigante esiste ed è esistito per secoli e per secoli ci ha dato prove della sua esistenza mentre l'uomo si impegnava a dire che non esisteva e quindi ecco c'è una critica appunto a questa incapacità dell'uomo a questa mancanza di volontà proprio di guardare oltre e di accettare che le cose possano cambiare che le cose possano essere diverse da quello che avevamo creduto che le cose possano essere diverse dalle apparenze e dalle nostre credenze eccetera eccetera quindi ecco uno dei messaggi molto molto forti in questo libro è proprio questo cioè quello di prendere coscienza di questo limite che è un limite che ci tarpa le ali che è un limite che ci incolla al suolo e che ci impedisce di realizzare il nostro potenziale che ci impedisce di crescere che ci impedisce di essere migliori di quello che siamo stati fino a ieri il libro è una celebrazione di quei personaggi che spesso nella storia devono remare controcorrente devono nuotare controcorrente e che sono capaci di pensare in modo diverso quelli che sono capaci di pensare in modo divergente quelli che sanno immaginare quelli che spingono per allargare le frontiere quelli che spingono per allargare i perimetri quelli che sanno pensare out of the box come si dice e quindi ecco l'autore celebra questa capacità celebra gli uomini, le donne, le menti capaci di pensare out of the box capaci di immaginare e di credere che le cose possano cambiare e che quello che fino a ieri ci sembrava impossibile oggi può diventare possibile mi viene da dire che sto facendo una recensione che è un po' il riflesso del libro stesso senza minimamente volermi paragonare perché ovviamente io sto facendo un discorso un po' disunito e il libro è tutt'altro che disunito però intendo dire che così come nel libro ci sono tante digressioni e seguiamo l'autore in un pensiero non lineare ma un pensiero anzi che schizza via da tutte le parti ecco io vi sto facendo una recensione un po' così non perché abbia lo stesso talento di narratrice dell'autore ma perché insomma è un po' difficile ecco riordinare le idee, rimettere tutto insieme e restituirvele un po' così in modo organizzato in modo ordinato però ecco per sintetizzare si tratta di un libro che ho amato moltissimo per la storia ripeto ma soprattutto per lo stile per questi messaggi che con grande semplicità che con questa falsa ingenuità ci vengono dati e che sono messaggi in realtà profondissimi che fanno riflettere davvero appunto sul modo di comportarsi dell'uomo sul nostro modo di stare al mondo e di interagire con gli altri e di interagire con la natura di cui l'autore ci ricorda facciamo parte cioè non è che da una parte ci siamo noi e dall'altra parte c'è la natura ma noi siamo parte della natura quindi un altro dei messaggi fondamentali in questo libro è proprio questo quello di farci capire che dovremmo tornare a sentirci parte della natura e non considerarci superiori e non guardare la natura dall'alto come se fosse qualcosa di separato e di diverso da noi quindi ecco questo è un libro che ho inserito nei miei consigli di lettura per l'estate perché in questo libro si parla di mare in realtà questo è un libro che vi consiglio sempre che vi consiglio per tutte le stagioni però ecco in questo libro si parla molto di mare ovviamente non di mare dal punto di vista turistico non di mare come località di villeggiatura ma di mare proprio come luogo appunto affascinante e misterioso in cui vive il calamaro gigante ora per i prossimi libri per i prossimi consigli di lettura sarà un po' più sintetica perché si tratta di libri che ho già avuto occasione di citarvi in altri video quindi insomma ve ne parlerò brevemente e vi rimanderò poi ai video precedenti allora il secondo consiglio di lettura che voglio darvi per questa estate è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi questo è un libro per me molto estivo un libro che io effettivamente associo all'estate banalmente e semplicemente perché la storia del romanzo si svolge nell'agosto del 1938 quindi la storia si svolge in estate e abbiamo un protagonista che oltretutto esprime molto spesso il fatto che ha caldo, il fatto che suda eccetera eccetera e poi questo protagonista ha un'abitudine che è quella di bere limonate in continuazione e quindi ogni volta che penso a questo libro mi viene voglia di limonata ogni volta che penso a questo libro mi viene in mente l'estate ora siamo molto lontani da un'estate idillica di vacanze qui siamo dicevo nell'agosto del 1938 a Lisbona quindi siamo nel contesto della dittatura di Salazar il protagonista Pereira è un giornalista in là con gli anni, con qualche acciacco vedovo e questo giornalista incontra un giovane Monteiro Rossi che lo porterà a una svolta nella sua vita e quindi Pereira prenderà posizione cosa che non aveva fatto fino a quel momento intendo dire proprio politicamente non vi dico i dettagli non vi dico come ovviamente per non fare spoiler però ecco questo personaggio conoscerà appunto un'evoluzione che lo porterà a prese di posizione e a scelte importanti il libro successivo che voglio consigliarvi per quest'estate è questo il primo sole dell'estate di Daniela Raimondi ovviamente questo libro ha l'estate già nel titolo quindi ve lo consiglio sostanzialmente per questo ma non solo per questo ve lo consiglio perché è un libro che mi è piaciuto che sono contenta di aver letto e perché si tratta di un libro che sta molto nella storia raccontata voglio dire si tratta di un libro che naturalmente va oltre la storia non si tratta di una storia fine a se stessa anzi si tratta di una storia capace di farci riflettere su molte tematiche eccetera eccetera però ecco è un libro dove la trama è assolutamente fondamentale e si tratta di una lettura scorrevole nonostante poi non tutte le tematiche siano necessariamente leggere per niente succedono anche cose molto tristi o molto gravi in questo libro però ecco la lettura è scorrevole, è fluida e quindi mi sembra un libro adatto così per un pomeriggio estivo questo romanzo è lo spin off di un altro libro di Daniela Raimondi un romanzo che si chiama La casa sull'argine la saga della famiglia a casa Dio e in questo secondo romanzo Daniela Raimondi riprende un personaggio che già appariva nel romanzo precedente rendendo la protagonista di questo secondo romanzo ora non voglio insistere perché ve ne avevo già parlato in un altro video quindi vi lascerò qui e anche sotto in descrizione il link per ritrovare facilmente quel video e andare a trovare insomma altri dettagli e altre informazioni su questo libro però ecco ripeto ve lo consiglio è una bella storia, è scritto bene e quindi sicuramente si tratta di una lettura gradevole il libro successivo di cui voglio parlarvi e che vi consiglio assolutamente per l'estate è questo La vita intima di Niccolò Ammaniti questo è un libro che io ho letto diversi mesi fa non che il libro in sé abbia qualche vincolo particolare con l'estate ma si tratta di un libro che sta tutto nella trama si tratta di un libro di puro intrattenimento nel senso positivo del termine l'intrattenimento è una delle tante funzioni che la letteratura può avere quindi un buon libro di intrattenimento può essere un libro di qualità non è che ci sia nulla di male nel definire un libro di intrattenimento e questo è proprio un esempio in questo senso si tratta di un ottimo libro di intrattenimento forse c'è poco altro nel senso che c'è qualche spunto di riflessione ovviamente per carità non voglio dire di no però insomma non è per quello che si legge questo libro ecco almeno questa è la mia impressione si legge questo libro viceversa perché l'autore ha una grandissima capacità narrativa ha una capacità veramente di catturarci di tenerci incollati alla pagina come io ho avuto occasione di dirvi in un altro video questo libro mi ha fatto arrivare tardi a qualche appuntamento proprio perché ero così presa dalla lettura che anche se vedevo il tempo passare non riuscivo a chiuderlo, a mollarlo lì a andare dove dovevo andare veramente non dico tanto per dire mi è successo una volta sicuramente se non due di arrivare tardi a un appuntamento perché stavo leggendo questo libro e non riuscivo a mollarlo quindi ecco questo è un grande talento una grandissima capacità che io riconosco sicuramente a questo autore in questo libro se non altro perché di suo ho letto solo un altro libro ma tanto tempo fa io non ho paura e ricordo vagamente che mi era piaciuto però ecco è un ricordo talmente sbiadito che non potrei darvi ecco altri dettagli però in questo libro se non altro c'è questo talento narrativo pazzesco che va riconosciuto e che non è affatto scontato non tutti gli autori ce l'hanno non tutti i libri hanno questa caratteristica questa qualità qui abbiamo una protagonista femminile che è una donna bellissima ricchissima con una situazione appunto economica e sociale assolutamente privilegiata lei è addirittura la moglie del primo ministro italiano ma a un certo punto emerge dal passato di questa donna un video che lei aveva anche dimenticato e con il quale comunque non aveva fatto i conti e questo video rimescola tutte le carte in tavola e provocherà un effetto domino che rimetterà in questione tutti gli elementi tutti gli aspetti della vita di questa donna il suo rapporto con suo marito ma anche il suo rapporto proprio con se stessa con la sua vita col suo passato insomma ripeto a partire da un episodio da questo video che riemerge dal passato di questa donna di questa protagonista ci sarà un effetto domino e quindi seguiremo insomma le sue avventure le sue disavventure e davvero le seguiamo con partecipazione insomma ecco quindi questo mi sembra un libro perfetto per l'estate perché non si tratta di un libro che richiede necessariamente grandissima concentrazione che ci fa poi riflettere su tematiche esistenziali profondissime si tratta di un libro estremamente piacevole da leggere estremamente piacevole a questo libro avevo dedicato un video intero una recensione intera quindi vi lascio qui sopra e anche sotto in descrizione il link per ritrovare la recensione di questo libro La vita intima di Niccolò Ammaniti il consiglio di lettura successivo è questo Bonjour Tristesse di Françoise Sagan allora io ho qui la versione francese perché l'ho letto in francese ma questo libro esiste in italiano e in italiano si è mantenuto il titolo dell'originale francese di questo libro vi ho parlato molto molto di recente quindi ecco davvero in questo caso non voglio insistere per non annoiarvi ma questo è chiaramente un consiglio di lettura per l'estate per almeno due motivi innanzitutto perché la storia si svolge d'estate in costa azzurra l'altro motivo per cui questo libro mi sembra un consiglio di lettura adatto per l'estate è il fatto che si tratta di un libro breve che si legge in fretta anche facile da portarsi dietro quindi vedete è leggero insomma ma con una trama molto forte in questo caso abbiamo una giovane protagonista Cecil che è poco più che adolescente che appunto passa l'estate con suo padre in una villa in costa azzurra in compagnia anche di una giovane donna che è l'amante così del momento di suo padre a un certo punto l'arrivo in questa villa di Anne che è una donna estremamente elegante estremamente raffinata intelligente e con uno stile di vita e una morale opposti a quelli della protagonista e di suo padre l'arrivo di questa donna dicevo modifica, sconvolge gli equilibri fra i personaggi che fino a quel momento stavano in questa villa vi lascerò qui e anche sotto in descrizione il link del video recente in cui vi avevo abbondantemente parlato di questo libro e anche un po' della sua autrice quindi ecco in quel video potrete ritrovare più informazioni e potrete ritrovare anche più dettagli insomma su ciò che mi era sembrato particolarmente significativo in questo libro ora per concludere come vi avevo annunciato in apertura un bonus il bonus è questo al di là di titoli precisi o concreti che io posso darvi mi sembra che un consiglio di lettura per così dire generico per l'estate può essere quello di leggere dei gialli, dei polizieschi o anche delle storie d'amore cioè libri che abbiano delle trame avvincenti libri di intrattenimento in senso positivo come dicevo prima quindi ecco questa mi sembra la caratteristica fondamentale che deve avere una buona lettura estiva sostanzialmente poi per carità se uno vuole leggersi un trattato di filosofia ovviamente può farlo in tutte le stagioni e può farlo anche a ferragosto intendiamoci poi insomma come dicevo prima questi video sono sempre dei pretesti per chiacchierare un po' e per parlare poi di libri o di abitudini di lettura eccetera eccetera bene questo è tutto per il video di oggi spero che vi sia piaciuto se è così mi raccomando mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere nei commenti qui sotto che libro state leggendo voi in questo momento fatemi sapere quali sono i libri che vi fanno compagnia durante quest'estate o i libri che volete consigliarmi e consigliare a tutti come letture ideali per l'estate noi ci rivediamo prestissimo con il prossimo video un bacio ciao 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 ciao